Il Medimex torna a Bari e riceviamo il testimone da Taranto, una città con cui abbiamo una collaborazione da diverso tempo, abbiamo sottoscritto un protocollo proprio nel momento in cui entrambe le città si sono presentate per la capitale italiana della cultura, quel giorno ci siamo detti che indipendentemente dal risultato finale avremmo fatto comunque quella programmazione che dal basso era nata sia nella città di Bari che nella città di Taranto. Il Chemical Prades sulla rotonda di San Cataldo di fronte all'ingresso della Piedra del Levante sarà un momento esaltante per noi, per la nostra città, torna la musica importante nella città di Bari in questo periodo di programmazione culturale con tanti spettacoli, abbiamo presso da un po' lungo mare libri e ci sono tante iniziative nella città ma anche nei comuni dell'area metropolitana e nel resto della Puglia, un'estate improntata agli spettacoli, alla musica, alla cultura per i tanti cittadini pugliesi che vivono qui ma anche per tante persone che si vengono a trovare e arrivano da più.